Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici al pianoforte. Oggi vediamo una canzone molto bella di Biagio Antonacci che è Iris. Bene ragazzi, questa canzone si compone di tre accordi all'inizio che sono Do diesis minore, quindi se questo è il Do, Do diesis, Mi, Sol diesis, poi avremo il Si maggiore, Si, Re diesis, Fa diesis e il La maggiore andando indietro, La, Do diesis, Mi e poi ancora Si. E sia nell'intro che nella strofa farà questi accordi. Sappiamo bene l'intro? E inizia la strofa. E ristraletto e poesia Ho trovato qualcosa che parla di me Possiamo accompagnare sia con un movimento per ogni accordo o anche due, scegliete voi. Le scritte tutte con blu Su pezzi di carta Provati qua e là E' uguale Dimmi dove, dimmi come Con che cosa ascoltavi la mia vita Quando non stavo con te E che sapori, che umori Che dolori e che profumi Respiravi Non stavi con me Poi qui Fa sempre questi accordi E aggiungerà il Mi maggiore alla fine Vi faccio ascoltare Iris mi viene da dirti Ti amo e lo sai Non l'ho detto mai Ma questo è il gioco Questo è il Mi quarta E poi andiamo al ritornello Che avrà sempre quattro accordi Do diesis minore si ripete Già lo conosciamo Poi avremo Fa diesis minore E lo prendiamo qui Quindi se questo è il Fa Fa diesis La do diesis Poi ancora il Si maggiore Che abbiamo visto E ancora il Mi maggiore Che abbiamo appena visto Quindi sarà così Quanta vita c'è Quanta vita insieme a te Tu che ami Tu che non lo rifaci mai E lo smettiamo è Di mostrarti come sei Quanta vita c'è In questa vita insieme a te Ma sempre questi accordi E poi riprende con la strofa E tutto si ripete Uguale come prima Bene come abbiamo visto Anche questa era una canzone Molto semplice Da suonare al pianoforte Io vi lascio comunque in descrizione Un link su dove trovare Il testo con gli accordi Poi altri due link Per imparare gli accordi Al pianoforte Ed in più la diteggiatura Per entrambe le mani Ciao ciao Alla prossima